E' abbastanza eccitato anche così. Sei una donna che lascia senza fiato. Come procede? Che cosa? Ma la tua inchiesta sui saloni per massaggi. L'hai poi ritrovata quella tua Sonia? Ah, lasciami il pace. Perché te la prendi tanto? È un temere per l'inchiesta, andrò fino in fondo. Se ti assistono le forze, mi sembri parecchio in giù di corda. Vuol dire che dopo andrò a farmi un massaggio. Tonifica. E tira soda ai muscoli. Tutti meno uno. Te lo sei giocato, mi sa. O forse sono le fatiche battite a Istanbul. Hai capito male? Care ragazze, vi dirò subito perché vi ho riunite in quest'aula didattica e sperimentale. Ronald, che di tanto in tanto si fa coccolare da voi, si è dichiarato disposto a ricambiare questi vostri servigi, visto che come attore vi deve moltissimo, sia per la distensione che per gli stimoli creativi che voi vi procurate. Lui dice che dopo una seduta con voi si sente più sciolto e fluido nella sua professione. Sì, sì, è giusto. Ronald perciò ha deciso, malgrado il poco tempo a disposizione, di illustrarvi queste sue esperienze e di darvi alcune lezioni di interpretazione. Questa è bella. Alla mia età, quanto è vero che mi chiamo...